Il posto giusto dove tutto ha più gusto Pizzeria e rosticceria Benni Tantissime specialità per un piccolo spuntino O una buffata in compagnia Tutte le pizze della tradizione Insieme a tante novità da comporre anche a tua fantasia Superofferta Mezzo metro di margherita a soli 5 euro Mezzo metro di pizza farcita a soli 6 euro Inoltre buonissimi panuozzi in gusti golosi e abbondanti Benni e anche polli ruspanti allo spiedo Con patatine a soli 6 euro Tutte le specialità di frigitoria e rosticceria Pizzeria e rosticceria Benni Via Dominzoni 90 Castellammare di Stavia Consegni a domicilio e prenotazioni allo 081 872 7714 La Guardia di Finanza dell'Aquila esegue otto arresti per associazione finalizzata a traffico illecito di eroina Sequestrati beni per oltre un milione di euro nell'operazione denominata Big Stone Dalle prime ore della mattinato di erina sestanda finanziere del Gico dell'Aquila e della compagnia di Giulianova con l'ausilio di unità cinofreni dei baschi verdi di Pescara e dei finanzieri del Nubre della Polizia Tributale di Ascoli Piceno stanno dando esecuzione ad otto ordinanti di custodia cautelare in caccia le messe dal GIP del Tribunale dell'Aquila su richiesta di reazione estrettuale antimafia per i reati di associazione a delinquo e finalizzato lo spazio. Ciò di sostanze stupefacenti Tutti indicati dal provvedimento di custodia cautelare facendo parte di una consorteria criminale Composta prevalentemente da soggetti appartenenti a famiglie rom Stanziali legate da vincoli di parentela diretta operativi sul litorale della provincia di Termadi alla vicina provincia marchigiana di Ascoli Piceno Il clan che opera storicamente nei territori di Alba di Atica e di Insicuro è dedito in maniera sistematica alla commissione di sbariati delitti Grazie 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 a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.